Gesù guarisce il cieco Bartimeo, dal Vangelo secondo Marco. Gesù e i suoi amici apostoli stanno uscendo dalla città di Gerico, e con loro c'è molta gente. Un signore cieco e povero, chiamato Bartimeo, figlio di Timeo, è seduto a chiedere l'elemosina. Quando Bartimeo sente che c'è Gesù, inizia a chiamarlo dicendo, aiutami, abbi pietà di me. Alcune persone gli dicono di stare zitto e di non disturbare Gesù. Bartimeo, invece di stare zitto, grida ancora più forte, Gesù aiutami, abbi pietà di me. Gesù si ferma e dice alle persone di chiamare il povero cieco Bartimeo. Subito il cieco si alza e va da Gesù, lasciando per terra il proprio mantello. Gesù chiede a Bartimeo, cosa vuoi da me? E Bartimeo gli risponde, io voglio rivedere la luce del sole. Allora Gesù lo guarisce, perché vede che Bartimeo crede davvero in lui. Così Bartimeo, guarito da Gesù, lo segue felice e contento. Gesù ha guarito Bartimeo per dimostrare di essere bravo e potente, per farsi dire bravo dei suoi amici? No, assolutamente no. Gesù ha guarito Bartimeo perché lo ha visto in difficoltà e ha deciso di aiutarlo, come aveva insegnato con la parabola del buon samaritano. Gesù ha guarito